E ciao a tutti amici, io sono Axel, oggi sono Nassol e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi, è il nuovo episodio dell'Axel's Road to Glory, episodio Proviamo a tirare, ad indovinare perché non ho ancora l'idea di che episodio sia Io direi, l'8 Per me è l'8, speriamo che abbia azzeccato Comunque prima di iniziare volevo dire un paio di cose La prima cosa volevo ricordare come sempre di passare da OneFIFA.com Siete interessati a comprare anche di FIFA E mi raccomando utilizzate il discount code EXCEL O meglio utilizzate Axel come discount code E secondariamente, o meglio ho altre due cose da dirvi Io volevo dire che per prima cosa O meglio che è già la seconda, adesso mi sto andando in confusione Non state vedendo la webcam Perché non mi sento molto in forma Infatti mi sembra che cambia anche la febbre o mal di testa della madonna E ovviamente quando mi deve invenire l'influenza Non durante la scuola ma bensì durante il weekend E questa è una cosa che mi fa un bel po' arrabbiare Dunque se mi sentite abbastanza, con una voce abbastanza strana Sapete il motivo Però appunto, ed ecco qua la terza cosa Io ci tenevo a portarvi in video Perché sapete che alla fine è una cosa a cui io tengo Quindi voi apprezzate il gesto Apprezzate il pensiero E se potete, se proprio volete farmi contento Lasciate un bel mi piace Comunque dove eravamo rimasti? Questa qua era la squadra tutta completa Come potete ben vedere Farò comunque uno squad builder apposito In uno dei prossimi video Quindi se non magari voi non conoscete dei nomi State tranquilli perché a breve arriverà lo squad builder Comunque niente altro da dire Direi di andare a giocare Dunque aspettiamo di trovare uno sfidante Anche se so che ci si metterà anni Invece no perché l'abbiamo trovata poco dopo Hurricane contro GXL Oh my god Morfet404 Usa il 4-4-2 da un paio di giorni Due o tre giorni che non gioco a FIFA Come non gioco all'Xbox Perché ahimè ho un mascello da studiare Però sto recuperando tutte le cose che non andavano Mi sto riprendendo Buono, 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 buono Ed è nostra scenderlist La metto in the middle Dove c'è Long Che non finaliza Non finaliza Yeah E intanto Long avanza Eccezionale Long Passa in mezzo a due Long Ne vede uno lì Oddio È buona Cabella Ne scarta uno Ancora La mette in the middle No E E ora Loro non vogliono mollare Vogliono andare avanti Lo vede nello spazio In the tunnel Nel tunnel Oh Oh Eh Arbitro Ma stiamo scherziamo No Era rigore netto ragazzi Era rigore nettissimo Dio santo Rodriguez Passa in mezzo Bello Ne scatta altri due C'è il gol Al 34esimo Ci portiamo in vantaggio Buono 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 Sì Ragazzi Ho anche nausea Mi sa che ho l'evola Sono malato E devo Buono Subito Vogliamo partire Con Juan Manuel Che Di velocità Lo scarta Ma non è vero Invece si Fa un ottimo tunnel Madonna Come è passato In mezzo a due Vediamo Fa l'altruista La mette in mezzo No Cosa ha sbagliato Rodri Bravo Così E c'è Come ha fatto A pararla Bella Bravissimo Cabella Che vede Rodri Oh no Ma il suo portiere È Gesù Spiderman Bella Bravo Bravo Cos No Ragazzi Oh mio dio È incredibile Intanto Miralem Che l'andrà a mettere Di là E finalmente Riusciamo a siglare Il 2 a 0 Sempre con Rodriguez E ragazzi Partita finita Abbiamo vinto solamente 2 a 0 Abbiamo avuto Molte occasioni Ma non siamo riusciti A sfruttarle Però Vinto Molto buono Così Andiamo avanti Invece Cabella Solo Apparentemente Si era fatto male Quindi Andiamo A giocare La seconda partita Secondo Spidente di oggi Utente Televalutazione E questo Cos'è successo No 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 Mi si è crashato All'Xbox Mi sto arrabbiando Sul serio Non l'abbiamo neanche iniziata E ce l'ha data persa Quindi voi mi state dicendo Che la prima partita Che abbiamo perso In quest'Axels Road to Glory L'abbiamo persa Senza averla neanche giocata E il bello è che Non ho la forza Per arrabbiarmi Perché sennò io qua Avrei già distrutto L'Xbox Avete capito Che bel gioco Che è FIFA Madonna Che schifo E vabbè E vabbè No e vabbè È un corno Dio santo Che schifo Madonna Che nervi Questo 4231 Serie A Buggata Che Tevez È una bestia Su questo gioco Però mi fa troppo Arrabbiare Non l'abbiamo neanche iniziata Se l'ha data persa Ma scherziamo E subia No Io so già Che sta partita La perderò Sono troppo arrabbiato Ragazzi PC mode Dai Oh Non può Non possiamo non usarla Già abbiamo perso Una partita Per colpa Di FIFA Che fa schifo Intanto Grandissima azione Di Rodri No eh E c'è il call 1 a 1 Il dodicesimo Meno male Bravo Vai buon Manuelito Fatti valere Mettili Turbo I Turbo I Turbo Manuel Manuel I Turbo E lo faccio alla bastarda Perché Devo vincere 2 a 1 Il dodicesimo Bravo Bravissimo Oh mio dio Mi ha scattato Proprio tutti Proprio tutti Proprio lui Incredibile Long Tieni là Oddio 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 4-1 E fu così Che il nostro Pensato E ragazzi Abbiamo vinto anche questa partita Quindi Tecnicamente parlando L'episodio è andato da dio Perché alla fine Abbiamo vinto tutte e due le partite Ma no Perché questo gioco fa schifo Perché Si fa odiare No Perché infatti No Perché noi Senza disputare alcuna partita Ne abbiamo perso una così Proprio Relagata Regalata Comunque ragazzi Detto questo Perché il video Mi sia vincito Vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Se potete Se no Lasciatelo lo stesso Oppure Lasciatelo lo stesso Mi sembra un'adeguata scelta E quindi Detto questo Vi saluto Di compatita Pasi nel prossimo video Ciao a tutti